L'ospedale Vittorio Emanuele II di Biceglie si rafforza. È stata inaugurata questa mattina la nuova sala rianimatoria del nosocomio bicegliese. I nuovi posti letto sono otto e sono stati realizzati in continuità con la sala originaria da sei per un totale di 14 posti. La nuova rianimazione è dotata di un sistema di sorveglianza con monitor in grado di garantire il controllo continuo delle attività di assistenza. Il progetto rientra tra le misure per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Questo è nato per questo motivo in maniera da non ritrovarci in quella situazione di due anni fa quando abbiamo dovuto occupare un po' tutto l'ospedale e trasformarlo in terapia intensiva. Cioè fu chiusa la sala operatoria e quella è diventata terapia intensiva per avere un numero di posti superiore perché i posti di rianimazione che noi avevamo erano sei. Quando è arrivato il Covid con pazienti gravi, parlo di marzo 2020, siamo arrivati a 12-14 posti ma questo solo trasformando le sale operatorie alla meglio in terapia intensiva. Quindi questo dovrebbe, ci auguriamo di no, che non succeda, ma questo dovrebbe servire proprio a farci trovare pronti e non in quella situazione terribile del 2 marzo 2020. L'ampliamento dei posti letto in rianimazione del presidio Covid della provincia BAT rappresenta un risultato strategicamente importante per il contrasto alla pandemia e non solo. Con la nuova terapia intensiva, con 8 posti letto aggiuntivi, completiamo quello che è il quadro del piano di riordino delle terapie intensive per arrivare a 53 posti letto esattamente come previsto dal piano di riordino nella speranza che non ci servano per far fronte nuovamente ai ricoveri Covid in terapia intensiva ma semplicemente per aumentare quelle che sono le potenzialità operatorie dei blocchi chirurgici. L'abbiamo fatto in pochissimo tempo come nostra consuetudine e questo si aggiunge nel nostro mosaico di una visione molto completa ma anche complessa e articolata di offerta sanitaria che soprattutto in questo territorio oggi fa il paio con la imminente consegna del reparto di pronto soccorso di altri reparti e altresì anche di altri reparti dell'ospedale di Barletta e di Andria che completeranno un disegno che noi abbiamo voluto in qualche maniera articolare compiutamente e completamente oggi. Presente alla cerimonia anche il sindaco di Bisceglia, Angelo Antonio Angarano il primo cittadino ha rimarcato l'importanza del presidio sanitario biscegliese per tutto il territorio. L'ospedale di Bisceglia oggi continua a essere un punto di riferimento non soltanto per il Covid ma anche con questa nuova rianimazione che con 14 posti diventa un reparto importante e consente all'ospedale di Bisceglia di continuare a essere un punto di riferimento di questa porzione di territorio che racchiude un bacino molto esteso.